Il nostro campione nazionale di discesa libera, vediamo qui, gran premio, gran premio della Madonna delle Ruce, vediamo i due giocatori di Bob, vai partiti! Eh, prova non soddisfacente la sua, vediamo il suo amico, la carina mi senta, tipo l'unica, la carina mi senta, tipo l'unica, la carina mi senta, lo spi, lo spi, lo spi, lo spi. Oh, metti, non puoi ci genere, se ne vai dritto soltanto. Ah, ci si maffa. Si. Si può gareggiare con il nostro mezzo dell'automozione, ormai è andato, però ce lo portiamo al locale, che l'abbiamo accortuta, scenderemo le scale del locale con questo fantastico mezzo che non inquina, noi siamo con l'ambiente. Ed è meglio della macchina mia. Ed è meglio della macchina mia, ciao.